Ciao a tutti amici di Salute Movimento, è arrivato il momento che tutti sicuramente aspettavate, cioè quello del sorteggio del nostro contest dei 5.000 iscritti al canale. Eccoci qua, abbiamo inserito qua dentro la nostra sacchettina i bigliettini con i nominativi delle persone che hanno partecipato commentando il nostro video contest e sorteggeremo due due canali che vinceranno la maglietta di Salute Movimento, una cosa di questo genere qua. Wow, che bella! Allora, veniamo al sorteggio. Attenzione, momento di suspense gigantesco. Allora, il primo vincitore è Glugla Glee, che non mi ricordo cosa avesse impostato, che va commentato. Quindi, questo è il primo visto. Applausi a scena aperta. Metteremo in sovraimpressione il nome del canale, poi contatteremo naturalmente il vincitore per avere benedicazioni sulla taglia, sul sesso e quant'altro, perché sono i nomi a volte i canali abbastanza. Il secondo vincitore è, nel frattempo è arrivato un cliente, è Ciotolins. Ma vittica! Daniela, che ci commenta sempre, sono contento di questa... Grande Dani! Bene, vi contatteremo via messaggio privato, vi chiederemo delle informazioni riguardo alle taglie e quant'altro e il prossimo contest ha raggiungimento di 5 milioni di visualizzazioni. Ci siamo quasi, siamo quasi a 4. Grazie a tutti! Ciao ragazzi, grazie, grazie, grazie! Ciao! Grazie a tutti!